Sicuramente uno dei temi importanti è anche la sinergia tra la professione e le imprese. Nel momento in cui i capitali si affacciano alla nostra professione è evidente che trovare il modello di sviluppo della farmacia sarà un momento importante. Per questo che oggi vogliamo fare questa giornata un po' innovativa nella quale tutte le aziende che hanno voluto partecipare mostreranno ai farmacisti i loro modelli di sviluppo, le loro idee, i loro pensieri per la nostra professione. È una maniera diversa di affrontare quindi il problema e quindi anche forse per uscire un po' da un'angoscia di una scelta, capire per conoscere e conoscere per scegliere. Ecco un po' la sintesi di questa giornata, sempre però con una regia della federazione che anche grazie ai lavori di queste giornate produrrà uno standard qualitativo al quale tutti i farmacisti indipendentemente da dove saranno a esercitare la professione vorranno attenersi proprio per dare quel significato in più che la nostra professione ha. Farmacista più in questo momento non vuole lasciare solo i farmacisti e offre anche questa opportunità.